Sì Che? C'ho tre Punti? C'ho tre Denari? Vabbè Fion Con che? Perdo i punti Ho freddi un po' ma dimmi Vado da te! Ti faccio un tre Ho capito Ti ho detto tranquillo Eh non è questa Comunque o calco o brisco Scopriare Punti? Tre Fermi Non lo mettiamo Che filmato dovrebbe essere Eh sì Ci siamo frì Non mi sa fare Un frì frì Chi vuoi? Lì Lì Ma bene pure Ma per lì non puoi Non ti ho piaciuto Che presa Oh coppia Eh Bè bella orca troia aspetta ma io stavo aspettando si si in c si 5 5 5 5 5 5 cavallo cavallo cosa vuoi? che hanno ingabbiato il gusto di come giochi a giochi a verzo no? ma si, non bastano solo quelle fatela ho visto tutto me? no, è appena pazza lo gioco io ero ah si sappi che dovremmo non dare uta eventuale a giro no, vuoi la partina male? non vuoi queste partite così di classico ma poco si sente sminuito mi scherzavo mi scherzavo mi scherzavo mi scherzavo ebbè buongiorno scopo buongiorno 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 mi scherzavo 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 Io? Ma si. Comandare ai no? Il femminile non è giusto. C'ho ancora 7. No, un 7 in 6. L'altro? O posso rigiocare? Ma in due rispondi? Che è? Che significa? E' questo non fai video. E' un tempo buio. Questa? Tu lo vedete? Oh, ragione. Eh, io ho. Eh, c'ho guardato 7, c'ho guardato 7. Adesso non vengono più uomo volete rire. Trovaria? Eh, già.